Mario Pizzola, classe 1993, stato premiato dall'Ordine degli Avvocati di Torino per il miglior punteggio all'esame per l'abilitazione e all'esercizio della professione forense 2019-2020. Nato e cresciuto a Prato la Peligni, ha frequentato la scuola militare Nunziatella di Napoli, presso la quale si è diplomato con il massimo dei voti, per poi conseguire la laurea a Cullaude presso l'Università Lewis Guido Carli di Roma. Dopo una fase iniziale di pratica presso lo studio legale di Gabriele Tedeschi a Sulmona, si è trasferito a Torino per lavorare presso il prestigioso studio legale Grande Stevens. Terminata la pratica legale, dove aver conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato, inizia a lavorare presso uno studio americano di fama mondiale. A Pizzola vanno le nostre. Congratulazioni.